Quattro nomine per Italia Viva a Battipaglia. Il coordinamento provinciale ha deciso di inserire quattro professionisti nel direttivo cittadino guidato da Vincenzo Inverso che lavoreranno in stretto contatto con la filiera istituzionale del partito. Si tratta di Antonio D'Angelo, nato e residente a Battipaglia, chirurgo vascolare e dirigente medico, nominato responsabile cittadino del Dipartimento Sanità, Carmine Caso, commercialista, residente con studio a Battipaglia, responsabile cittadino del Dipartimento Attività Produttive, Arturo Densa, commercialista ed esperto revisore legale, residente a Battipaglia e nominato responsabile del Dipartimento Finanziamenti e Bilancio e Michele Manfredonia, avvocato, residente con studio a Battipaglia, nominato responsabile del Dipartimento Agricoltura.